...di Simeoni con i tre punti da Catania fondamentali, forse tre punti salvezza. Vediamo. Per noi è una partita molto importante, dovuto a che fuori ancora non siamo riusciti a fare quegli punti che abbiamo bisogno e la partita si aveva messo in difficoltà, al di là di aver giocato tutta la partita noi, cercando di metterli sotto sulla porta di loro, quel gol non arrivava. E veramente mi ha messo contento perché i ragazzi ancora in una situazione di difficoltà sono riusciti a fare quello che si lavora in settimana, una situazione allenata e veramente la tranquillità tanto di Francesco come di Cristian per avere la qualità, per fare un grandissimo gol, evidentemente ti fa esplodere, prima per loro perché stanno lavorando, purtroppo a Firenze non abbiamo potuto fare la partita che volevamo, però ancora oggi in casa ci siamo riusciti a essere noi stessi. Hai fatto già una tabella salvezza, sette, otto punti bastano nelle prossime nove partite per salvarsi? Non lo faccio, tutti quelli che ascolto fanno numeri, queste cose, però io gioco tutte le partite per cercare di fare punti. Sono nato e cresciuto di quella maniera, non posso pensare che in questa partita farò punti, in quest'altra no perché sennò è difficile. Un lottatore, un lottatore, non può pensare in maniera razionale, si butta il cuore lì in campo, intanto tre punti chiaro.